Un lutto improvviso ha colpito il cantante Umberto Tozzi, la sua ex moglie è stata trovata morta in circostanze misteriose Un lutto improvviso ha colpito il cantante Umberto Tozzi, la sua ex moglie, Serafina Chalot, è stata trovata morta nel suo appartamento di Udine Non si conosce ancora il motivo del decesso. Tozzi, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione Lutto per Umberto Tozzi non è un momento facile per Umberto Tozzi, l'ex moglie dell'artista, infatti, è stata trovata morta nel suo appartamento di Udine, dopo che da giorni, ormai, non si avevano più sue notizie La donna, che lavorava come collaboratrice scolastica in un istituto della sua città, mancava dal lavoro ormai da giorni e il fatto ha messo in allarme tutti Tozzi e la Scialò sono stati sposati dal 1979 al 1984 e hanno un figlio, Nicola Armando, nato nel 1984 Umberto, dopo la fine della loro relazione, si è sposato con la sua attuale moglie, Monica Michielotto, dalla quale ha avuto altri due figli, Gianluca e Natasha Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao